. Isola dei famosi, l'opinionista sbotta, la Marcuzzi riuscirà a frenare l'ira della zia?. L'opinionista dell'Isola dei famosi, Mara Veniet, sbotta contro la trasmissione, Cannagate? Questi sulla sta diventando imbarazzante. . Cosa accadrà nella nuova puntata?. All'Isola dei famosi si continua a parlare della questione Cannagate. Un polverone che aleggia attorno alla trasmissione da diverse settimane e che non sembra voler dissolversi. . Ci ha pensato Mara Veniet a dare uno scossone al programma, con uno sfogo che non è passato inosservato agli appassionati del reality di Mediaset. . Nella scorsa puntata, infatti, dopo l'ennesima discussione sul confronto Francesco Monta e Eva Enger, la Veniet ha preso parola e si è scagliata contro tutti, noi vogliamo la verità, qualunque essa sia, perché sta diventando imbarazzante la trasmissione, almeno per me. . . Sarà che questa prima parte del reality non l'ha pienamente convinto il pubblico, ma allo stato attuale la vera protagonista dello show rischia di essere proprio Mara Veniet. . . Con il duro sfogo nella scorsa puntata, la zia si è presa la scena. . 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 Anche questa sera su Canale 5, Mara Veniet sarà ospite all'Isola dei famosi per una nuova puntata. . 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 Una vicenda che, malgrado riguardi una delle primissime puntate della stagione, continua ad alimentare le polemiche attorno al programma. Anche nella puntata in programma Oggi, Mara Venier potrebbe intervenire sulla questione e dire la sua. Se lo aspetta il pubblico dellIsola dei Famosi, che la scorsa puntata si è schierato a suo favore chiedendo a Mediaset rispetto e chiarezza sul caso. Difficile quindi ipotizzare che la faccenda venga archiviata, Mara Venier è pronta ad esprimere il suo parere senza peli sulla lingua. I concorrenti sono avvertiti, Francesco Monte ed Eva Angel pure. Il caso Cannegate, ormai, è diventato parte integrante di questa nuova stagione dellIsola dei Famosi. Il caso Cannegate, ormai, è diventato parte integrante di questa nuova stagione dell'Isola dei Famosi.